Bene amici, tanti pacchi anche oggi, due due due, vediamo cos'è arrivato, vediamo cos'è arrivato, il primo da Bartolini, arriva da dove? Arriva da... Oh, arriva da Meizu Mart, quindi, quindi, vediamo, ci potrebbero essere dentro cose interessanti per la recensione che sto per girare, perché, vediamo un attimo, prima apriamo questo super pacco, vediamo un attimo, vai taglierino, mi raccomando, chiuderlo sempre E' il Pro 6, ma io il Pro 6 ce l'ho già, eccolo qua, ma no, perché questo è in versione internazionale, questo è in versione cinese, quindi potremmo anche fare qualche comparativa e vedere qualche differenza, è bianco anche lui Allora, primo pacco è andato, vai, buttiamo via la carta, c'è anche un altro pacchettino, vediamo un po' qua cosa c'è dentro, in questo altro secondo pacchettino, c'è dentro, c'è dentro Cuffie, cuffie bluetooth, cosa mi ha mandato? Tra l'altro, tra l'altro, col Pro 6, le Meizu Sports EP51 Bluetooth, sono molto curioso, tra l'altro, aspettate un attimo, perché mi è venuta in mente una cosa Devo farvi sentire, o meglio, le sentirò io, o meglio ancora, le sentite un esperto di qualità audio, perché ho invitato William qua nel mio studio Anche le HD50, quindi Meizu, con le cuffie, ci andrà la nozze, perché le proveremo tutte Allora, questo pacco invece mi suggerisce qualche cosa, perché arriva direttamente da Cupertino Eh sì, proprio da là, no, magari arriva dal magazzino europeo, perché mi è arrivato, eccolo qua, il nuovo, e ci sono anche un po' di adattatore Perché c'ha la maledetta Type C, il MacBook, allora, nuovo no, perché non è stato modificato nell'estetica, ma nuovo sì, perché è stato modificato nei processori, nell'essenza E allora, ve lo apro un attimo, per farvi vedere il colore che ho scelto, secondo me stupendo Voi sapete che monto i video col Pro da 13, ho avuto l'Air da 11 fino a un annetto fa, fino a che non ho avuto bisogno di potenza maggiore per lavorare più video e più velocemente Ma il debole per i computer compatti è sempre un debole per i computer compatti E allora, eccolo qua, veramente piccolissimo, sottile, leggero Devo ancora decidere se portarlo a un corso di sopravvivenza che farò giovedì e venerdì Sopravviverò? Forse lo porto, lo scopriremo solo guardando i nostri video Un saluto da andrea galeazzi.com Ciao! E vado a? Vado a giocare, come sempre Dovrei anche mettere a posto la cantinetta Non ho mai tempo Ciao!